Derby con i botti di fine anno tra il Pineto e il Lavezzano che hanno regalato gol, emozioni senza esclusione di colpi. Bello l'ingresso in campo delle due squadre con i giocatori di casa che hanno donato il panettone ai loro avversari. Un primo tempo scoppiettante con cinque gol, tre dei quali arrivati dagli 11 metri. Tra i padroni di casa esordio tra i pali di Sciba, ex Giulianova, considerato un pararigori contro i marsicani, però non ha avuto molta fortuna. Assenti tra i biancazzurri gli squalificati Pepe Amadio, tra i biancoverdi. Si fa male durante il riscaldamento Padovani, al suo posto Dosa. La partita si sblocca dopo quattro minuti. Deramo viene abbattuto in area da Marini. Degli 11 metri lo stesso Deramo segnerà il primo dei tre gol personali. Il pareggio dei padroni di casa arriva poco dopo, traversone dalla destra di Mazzei e incornata di Tomassini al settimo centro stagionale. Si fa male Marianeschi dopo appena 12 minuti di gara, Pineto che giocherà per oltre tre minuti in inferiorità numerica per consentire a Di Rocco di riscaldarsi. E in quel frangente, con l'uomo in meno, i locali subiranno il nuovo vantaggio ospite. Deramo è dirompente nel fendere la difesa avversaria, palla al piede, entra in area e trafigge Scima. Evidenti le responsabilità della retroguardia di casa. Annullato al diciannovesimo il gol di Orlando per l'offside attivo di Tomassini, l'assenza di Marianeschi si fa sentire. Il Pineto soffre soprattutto a centrocampo. Al trentasettesimo stessa percussione sulla destra della Vezzano e ancora una volta Marini mette giù un avversario. L'arbitro lascia correre, ma il primo assistente vede una trattenuta del difensore ai danni di Besana. Ancora Deramo dal dischetto, Scima di nuovo spiazzato. A cinque minuti dal riposo, il rigore questa volta è per il Pineto. Tomassini va giù, il direttore di gara non ha dubbi. Dagli 11 metri arriva la doppietta del bomber biancazzurro che sale a quota otto reti in questa stagione. Primo tempo che si chiude sul 2-3 per gli ospiti. Nella ripresa i padroni di casa partono subito a testa bassa. Di Rocco ha la palla per acciuffare il pari, ma manda di un niente alla destra del palo della porta difesa dall'ex Fanti. Amaolo decide di schierare Di Rocco in posizione offensiva e Cercelluti più indietro. Scelta che dà al Pineto maggiore spinta. Marsicano in affanno al nono Puglielli salva sulla linea il tiro di Camplone. E dopo il quarto d'ora è Tomassini ad avere la palla buona. Il suo sinistro, che non è il piede preferito, termina sul fondo. C'è anche il palo colpito dagli adriatici sugli sviluppi di un corner e Cercelluti interviene di tacco. La sfera si stampa sulla base del legno e si spegne sul fondo. Il pareggio arriva al 29esimo, traversone basso dalla destra. Fanti non intercetta il pallone. Cruz è entrato un attimo prima al posto di Cercelluti. Di potenza scaraventa in fondo al sacco. L'estremo ospite vorrebbe una carica. Fanti si riscatta due minuti dopo, neutralizzando il bolide di Fratangelo, che lascerà al 36esimo il campo per infortunio. Fanti, beccato dal pubblico di casa, compie un altro mezzo miracolo su Cruz. Altro palo al 43esimo per i locali sugli sviluppi di un calcio piazzato e un vero e proprio assalto nell'area marsicana. L'ultima emozione la regala Orlando. Il suo colpo di testa viene salvato sulla linea da un difensore. Finisce così con un 3-3 intenso e con Fanti, che se la prende un po' con i suoi vecchi compagni.